a due chilometri ci fermiamo ma c'è una richiesta molto diciamo chiara anche da parte qui di Riccardo ma anche per noi questa è la soluzione migliore perché lui può guidare ancora un'ora e un quarto allora adesso ci fermiamo perché fisiologia purtroppo è questa quindi dobbiamo fermarci e chi ha necessità di far la pipì scende e poi subito ritorniamo sul pulmone e ripartiamo molto perfetto pura luce si incontrammo una che ha ragione sicura ma pochissima invece l'altra copara stavamo a vendere la cinese compagno è un po' che c'è che c'è da qua ma manco per l'Arnaio che sta da qui l'Arnaio è più l'ora che l'Arnaio che è un po' che sta la carta tu vieni a leggere leggi Stefano Giunto ah di 50 anni che ogni volta fa il 50 si dimmi volevo la carta prego la carta la carta la carta lì la carta è un po' che è un po' che è stato complete la carta bella l'orra l'orra la carta Sì, c'è il mio cuore, il mio cuore si rica bene e allora tu, il mio cuore si rica bene Che l'abbiamo in realtà è un po' di più Ma l'abbiamo in realtà, non ti dà bene Sì, non ti dà bene, non ti dà bene che paesaggio, è la fine del mondo, mi dice che è bello fare la registrazione, questo è come le cartoline, lui spedisce una cartolina e c'è uguale, che è lì, forse, l'Austria è la fine del mondo. La mia voce non è ghiacciata, mi ha piaciuto 50 anni, ma non ti piace. Stava innamorato da Coca-Puretta. E' un'altra parte di rifiuto e' un'altra parte di cuora, mi ha sinto un po' di c'era tutta la pianta c'era tutta la pianta c'era tutta la pianta Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scuola era molto... Scusami allora Camillo perché ho dato una notizia sbagliata. Non ti preoccupare. Ho detto a voi che siete ultimi. Sembra di pagare un po' di multa. Tu sei sempre un rotto, mi stai e ti mostrati a terra. Non mi ha fatto un po' di metteria. Ma mi ha fatto un po' di metteria. Ma mi ha fatto un po' di metteria. Ti ho paura che ti stai assicurando. Tu hai fatto un po' di metteria? E' quello lì dove la chiamano la Monte Carlo dell'Austria. Quel paesetto l'avamo. Welden? Welden, come li ho? Io non hai visto come si chiama Welden. E' il lago si chiama Wurther con la W-U-R-T-H-E-R. Wurther. Parla sempre. E' la Monte Carlo dell'Austria. E' la Monte Carlo dell'Austria. Infatti è bella. E' organizzata. E' crescita. Il vostro camminatore è.. E' l'Esel. E' l'Austria. E' l'Esel. 완�守 burning. C'è benissimo. Che cosa è laبةcia? E' l'e Garrido. E' l'Athra, una vecchiazza che usa la città. E' l'Esel. E' l'Esel. Anurarla. E' un nuovo incansatore che leggo tra Terence. Istituire dalla cartonese. E' e' questa cosa. Come lo ha fatto un po' una cartheusů e lei mi conta quelloste. Questa notte il sole è 12, siamo persi, prima sto andando. Certo, facciamo della cartolina? In Italia, siamo in Italia? Un chilometro. Siamo arrivati in Italia? Un chilometro. Un chilometro. Perché è andato lì in Italia? Un chilometro ci manca. Ora che vi mettete una corda, un chilometro è veloce. Questa è del mondo, non ho quanto fai l'anni. Ma resta imbecile qua. Ma siccome... Questo qua ne va per allora. Da dove sta entrando? In America. Ha 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 ha. Il carro lato. Qua siamo in Italia? Provincia di Udile. Voglio fare un piccolo ricordino pure all'Italia. Al fine del mondo. Ma non ci sono. Al fine del mondo. E' ancora la quale diciamo su tutti che la registra. Ma devo finire. Ma voi non volate canter e allora che sta portata. Volare, oh, oh, del blu, la fine del mondo, il blu, dipinto di blu, mentre il monte volava, volava, fino allo del sole. VOLARE, oh, oh, cantare, oh, 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 una cartina in mare, lascia la canda, perché ci faccio a ripieno, ma si mi ripieno, ma frago, ma ho, lasciate la canda, parla, 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 come, dai, dove stiamo, le carnie, le carnie, le carnie, Grazie. I miei bambini sono in un po' a niente. Ma io sono qui nel Nipò. Non si tratta di un po' a niente. Non si tratta di un po' a niente. Ma io sono qui nel paese. Non c'è un po' a niente mai stranico. Ma noi vengono. Se tu, mi è dovuta fare un po' a niente. Non c'è un po' a niente. Perché mi ha detto che la lettera che c'è. Non sai che cosa... Come la pubiglia. A che casa? e spazza e spazza ma solo sotto al palcone ma tu sei uguale una torta controllo e per lo scuola no 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 che non sbagliamo non è una raccomandazione per voi ma si può usare va bene tutto e le collane e le collane la storia delle collane e le collane monselice il castello di monselice abbiamo sperimentato e per quanto riguarda la persona di riccardo riccardo io vorrei ringraziarti da parte di tutti noi perché non è soltanto che ci sentivamo sicurissimi quando guidi che è importante noi sappiamo su questi giorni guardate senza anzi con lui 50 per cento l'atmosfera di tutto questo il nostro viaggio di questo che abbiamo vissuto e sicuramente potremmo sperimentare grazie a lui perché era sempre disponibile sempre puntuale e poi sempre con questa classe con questa sua buona educazione allora sicuramente ancora lo saluteremo e dopo con applauso ma io ripeto adesso vorrei ringraziarlo e per questo come come autista ma come persona grazie riccardo con il volante in mano con il volante in mano con il volante in mano e poi ci vuole così non disecca niente alle 3 ho parlato dopo le 3 ho parlato con Stanislaw diceva che da noi è una più già Molto e battente? Forte, forte Va bene, perché vi riposo domani Ma non dormire troppo No, no, devo andare all'ospedale Ah, controllo Speriamo che tutto va bene Ma non ci credo Dici Non ci porta troppo Il phobia Dieりました Il pho Tempare Orvo Il pho Pagina Bologna 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 A tua famiglia, ai tuoi bambini Speriamo di rivederci alla prossima vita Grazie Grazie a tutti Riccardo ringrazia tutti Grazie Come sale questo qui? Sale qua, vada Ma lo prendiamo Tra quante chilometri? Grazie Siamo arrivati Siamo arrivati Sì Silvano Buon anno Buon anno Ripetete un po' Te lo faccio rivedere Il nostro Il nostro Bologna Poi Siamo arrivati Sì, è la cabina. Manca cinque minuti, ora com'è? Mazzini, perché è Mazzini? Scusatemi, purtroppo sono così. No, per lui. Non si deve, qui? No, no, adesso è impossibile. Allora facciamo così, pensate, anzi, durante per esempio la pausa ancora mi date dei suggerimenti che prima di scendere, quando scende il primo gruppo a Teramo, ci diciamo...